L'area furtiva non era di grande valore, quella che si può trovare in case di villeggiatura, elettrodomestici come televisori e asciugacapelli, scorte alimentari, capi di abbigliamento, ma la regolare periodicità del ripetersi degli episodi era stata tale da destare allarme in diversi cittadini rivoltisi preoccupati ai carabinieri. Dopo alcuni mesi di indagini, i militari della stazione di Ponte in Valtellina hanno stretto il cerchio attorno agli autori di questi colpi con cui avevano ripulito diverse seconde case e appartamenti abitualmente non abitati nelle località di Berniga e Tripolo, situate sul versante aerobico del comune della Mediavalle. I fatti andavano avanti da inizio anno, quando i proprietari avevano denunciato i primi episodi di incursioni nelle loro case da parte di topi d'appartamento, poi ripetutisi con cadenza sistematica. Dai primi accertamenti così i militari hanno verificato che due soggetti, lui 47enne di Tirano, lei 31enne di Sondrio, già conosciuti alle forze dell'ordine, dallo scorso novembre si erano trasferiti ad abitare in località Berniga. La coppia, pur sapendo di essere attenzionata per altri fatti, non aveva smesso tuttavia di dedicarsi all'attività criminosa, intrufolandosi nelle abitazioni incustodite dei vicini. La zona solitaria e la modesta entità dei furti avevano forse fatto ritenere ai due di poter continuare ad agire indisturbati senza scomodare l'interesse dei carabinieri. Con azione paziente invece gli uomini dell'arma hanno raccolto importanti indizi di reato nei confronti dei due, producendo le prove davanti alla magistratura di sei furti a loro carico, di cui uno di energia elettrica. Come rilevato dagli operai dell'Enel che hanno provveduto a neutralizzare il sistema, la coppia di ladri infatti aveva creato un ingegnoso allaccio al contatore casalingo bypassando il sistema per la contabilizzazione dei consumi. I carabinieri per tutto questo sabato mattina hanno eseguito la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del divieto di dimora nel territorio comunale di Ponte in Valtellina e dell'obbligo di firma. Non solo nell'appartamento dei due i militari hanno notato che era stato ricreato un sistema illegale di allaccio elettrico, di qui la nuova denuncia per furto di energia. I carabinieri di Ponte, sottolinea il comandante della compagnia di Sondrio, capitano Serena Federica Galvanio, hanno così dimostrato alla cittadinanza locale di avere rispettato l'impegno preso e di non avere sottovalutato, come alcuni avevano sospettato, l'allarme più volte lanciato per quanto stava avvenendo.